Beh, che c'è? Cos'hai? È stata colpa mia! Lui, dove? Sì, mi ti prego, è stata colpa mia, mia soltanto. Ho cominciato io a litigare. Aspetta, ti spiego. Io gli ho dato un ceffone e lui... Ok, vado solo a chiamare un dottore per farti dare un'occhiata. Sonni, ti prego, non fare niente, non fare niente, ti prego. Ok, ma che ti piglia, di che hai paura? Posso mai fare orfano tuo figlio prima che nasce, eh? Va bene. Altra corsa che chiuderemo in perdita. Diggi di piantarla, di accettare scommesso. Abbiamo già perso un fottio di soldi anche oggi. Vieni qua, vieni qua! Stranzo! Vieni qua! Stranzo! 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 Riprovaci a toccare mia sorella il tescano. Grazie.